... Alfredo Barilari, sindaco di Serra San Bruno, siamo qui nella sede del Parco delle Serre per questa dodicesima edizione del Pinocchio in bicicletta. Sì, siamo in questa località bellissima, Serra San Bruno, per l'inaugurazione di questa postazione di bike sharing vanno fatti i complimenti al Parco delle Serre, al commissario Grillo, perché significa voler promuovere nel modo giusto il nostro territorio, Serra San Bruno, in uno scenario ricco di biodiversità e di bellezza. Quindi noi puntiamo, come diciamo sempre, non ad avere tanti turisti ma tanti visitatori, quindi persone che vogliono immergersi nella storia, nella cultura e nella natura di Serra San Bruno. Il bike sharing inaugurato qua lo si inaugura tra l'altro all'inizio del Viale Certosa che come amministrazione abbiamo reso pedonale il sabato, la domenica e tutto il mese di agosto e questo significa potersi godere una bella pedalata. Come Comune di Serra daremo anche alla postazione del bike sharing una bicicletta Hug Bike, bicicletta degli abbracci, pensata per le persone con disabilità che è stata data al Serra San Bruno con un protocollo di intesa con l'associazione IA Autentico. Quindi anche le persone con disabilità avranno la possibilità e l'opportunità di godersi una bella pedalata in questo stupendo scenario che poi Serra San Bruno e l'intero Parco delle Serre. Grazie. 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 Grazie.